e ben ritrovati a questa nuovissima gameplay di assassin pd2 qui con leon kennedy 95 bene siamo dopo aver consegnato la lettera a lorenzo però che non abbiamo consegnata più perché era fuori firenze sotto ci troviamo a fare altre missioni e petruccia dove petrucciotruccio voglio quelle piume è un segreto se te ne vado a te tornerai nel tuo caso si te lo prometto ok vai allora dove sono il piume la città è la città Allora, dove è questa casa? Ah, ok Ok, abbiamo bisogno Tieni, come promesso Grazie, fratello Ancora non mi hai detto a che ti sei? Vedrai, vedrai Hai un'anzibrania L'ha usato tipo cartegginica l'ha usato Ah sì, da Claudia Vuol dire, Claudia, come stai? Bene Non dovresti nascondere le mie cose È perduccio Che hai fatto? Credo che mi sia stato infedele Che ti l'ha detto? Le altre ragazze Pensavo che fossero mie amiche Artie Paresti bene a dedicarle Io l'ho amata No, Claudia Tu crederi di amare Mi soffrire per ciò che ha fatto Aspetta qui Vado a dirgli due parole Vai, vai Spacchiamo il culo a questo Ok Fare bene a prendere qualche punto d'osservazione U, 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 B Vabbè, andiamo piano a questo Sto facendo l'amore con un maiale Sì, come se stai? Oh, un bacio È bellissimo Voglio solo il meglio per te Amore Comunque Altissime Ma che ne è di Claudia? Non ti hai professore a lei? Mio padre dice che lo trai a bere di meglio che un'auditore Vieni, vieni, camminiamo un po', camminiamo No, no, duccio Ehi, Lurino Porco Ehi, Lurino Porco Sperzio, amico mio Ma che te piglia? Insulti mia sorella, andandotene in giro con questa fruttana Ma di chi stai parlando? Ho visto, dono, che l'hai fatto Ho udito le tue parole Forse tua sorella non dovrebbe essere così avara con la sua vita Le hai spezzato il cuore E a te spaccherò la faccia Sì, sì, come no? Voi, auditore, siete bravi solo a parlare Ma contro i fatti Spergati Basta, mi arrendo Sta lontano da mia sorella Divinitela Pezzo di merda Allora, prima di continuare Oh, cazzo, no Allora, questo Ok, lo richiardo qua Oh, cazzo, no Cazzo, cazzo, no Sono buone scato Oh Oh Vergogna, boh E' in passima polpa Dovresti Eh che? Basta Atta Attacca Vabbè, no Quindi ci possiamo navigare Allora, forse è qui Ah, ok Cazzo Non è possibile Cazzo, come da solito Passo proprio Forse che l'ho capito come Almeno credo Ok, non può salire Allora, io Allora Allora, guardiamo un po' No, adesso lo puoi Allora, rimaggio Allora Cazzo, quante alte sto campanile può salire pure dagli interni adesso eccola qua oppa una spina allora dove sono? ecco il culo 1,2,3 via poi poi così per la finestra ok siamo in cima sì siamo in cima dove è la mazza? ecco per sincronizzare giusto un po' la mazza campagna di giotto alleluia ok andiamo da Maria 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 ecco casa mia ma tutto schifo ecco buongiorno Ezio buongiorno a voi madre come state? sto bene e tu? ti stai riprendendo dalla notte scorsa? non so davvero a cosa vi riferiate certo che no comunque ho una commissione da fare vorrei che mi accompagnassi con piacere va bene vieni non dista molto da qui sì certo come no so tutto della tua zuffa pubblica so tutto della tua zuffa pubblica